Io ho studiato a Firenze scienze motorie, sono laureato in scienze motorie, anche se in realtà sono venuto a Sofia dall'Australia, nel senso che sono stato un periodo di dieci mesi in Australia, dove ho lavorato come assistant teacher in una scuola cattolica. Ed è proprio lì che ho sentito questa esigenza di formazione per poter diventare un professore e ho deciso di tornare qui. Avevo già deciso di restare in Australia, ho deciso di tornare per finire gli studi qui a Sofia. Sofia, corrisponde a ciò che cercavi? Pienamente, perché devo dire che tutti i corsi, grazie a questa interdisciplinarietà e transdisciplinarietà, vanno avanti insieme. E quindi sento che è proprio questa formazione, mi viene da dire, totale della persona che si riesce ad avere qui a Sofia. Il confrontarsi con una realtà internazionale è una cosa che ti fa crescere. Siamo studenti, siamo una cinquantina di studenti di 27 nazioni del mondo, dall'Asia all'Africa. Ci sono tanti studenti africani al Sud America, Nord America. E poi le lezioni, le lezioni, i corsi sono veramente molto interessanti. I docenti hanno un approccio con gli studenti che è molto particolare, nel senso che si instaura veramente un rapporto. I professori non sono lì soltanto per insegnare, ma ascoltano anche quelle che sono le proposte che vengono dagli studenti. E quindi in classe si crea anche un clima speciale, anche di dialogo. Nella vita di tutti i giorni è interessante, perché comunque il programma accademico è molto intenso, il programma dei corsi. E negli spazi liberi siamo organizzati con attività, abbiamo per esempio, facciamo sport insieme a volte. Abbiamo il giovedì, lo chiamiamo giovedì culturale, una serata nostra organizzata appunto dagli studenti. Durante la settimana pranziamo tre volte insieme, studenti e docenti. E poi la vita nelle residenze, comunque, che sono sempre lì al, lo chiamiamo college, dove ci sono appunto vari appartamenti. Comunque, essendo vicini, siamo sempre insieme, quindi anche nello studiare, piuttosto che l'organizzarsi nel far da mangiare e tutto. Ho conosciuto Sofia tramite un'amica che frequentava già il primo anno e me ne ha parlato e mi ha molto incuriosito come progetto e come nuova forma di vita. Cercavo la maniera di poter riversare appunto in queste discipline così a volte sterili, così lontane dall'essere umano, la maniera, il modo umano del dialogo, della fraternità appunto. In ambito di relazioni internazionali, organi politici, collegi, è importante imparare ad ascoltarsi, lasciare spazio sia quello che è il punto di vista degli altri, pensandolo come un arricchimento e non come un'intrusione appunto. Quindi dal punto di vista professionale il lavoro in equip è perfettamente conseguibile, qui si imparano tante cose. Rifaresti questa scelta di studio? Rifarei questa scelta, sì, assolutamente, perché mi ha arricchito tantissimo dal punto di vista sia didattico che umano. Ho trovato quello che cercavo qui, ho potuto arricchire le mie conoscenze, ampliare i punti di vista, gli orizzonti conoscitivi, conoscere tante persone che mi hanno permesso di allargare appunto questo sguardo sulla disciplina delle scienze politiche che può sembrare così lontana dalle persone. Grazie. 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 Grazie.